Preoccupano in un poco i tempi per l'aria apertura della strada statale 259 che collega il casello dell'A14 Val Vibrata all'innesto con la statale 16. Una chiusura totale imposta dall'ANAS in via cautelativa dopo la caduta di un grosso albero sulla strada per il forte vento registrato sabato scorso. Questo fino alla verifica dello stato di sicurezza delle piante che costeggiano la carreggiata. Ad esser venuto giù è stato uno dei tilli già oggetto di diatriba ed esposti da parte di gruppi ambientalisti che si sono posti al taglio. Il sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni sul cui territorio ricade il tratto bloccato e al lavoro per trovare una soluzione il prima possibile. Sicuramente c'è un problema di staticità insomma di diverse alberature. Questa situazione chiaramente di chiusura è susseguente a quello che è successo lo scorso fine settimana ma credo insomma chiaramente che sia un po' evidente a tutti che sia un po' la conseguenza anche di quello che è successo qualche anno fa quando si inizia un taglio di alberature per cui poi insomma c'è stato sono stati degli esposti, è stata messa di mezzo la procura, c'è anche un rinvio a giudizio e quindi questa questione rende un po' l'aspetto un po' più problematico e difficile. È una situazione veramente complicata perché comunque sia c'è di mezzo la sicurezza delle persone quindi nessuno in questo momento sa quante di quelle alberature insomma sono sicure o meno quindi noi ci siamo mossi subito già da domenica insomma ieri già è andato un agronoma da noi incaricato a cercare di verificare quantomeno quelle che possono avere una maggiore problematicità anche perché lì ci sono delle abitazioni ma dobbiamo lavorare tutti quanti insieme e lo ribadisco tutti quanti insieme per cercare di riaprire la strada in sicurezza. In Val Vibrata il livello della tensione è alto per i disagi causati dalla chiusura che sta portando anche ripercussioni alle grandi attività commerciali presenti su quell'area. Noi stiamo lavorando anche di concerto con gli altri comuni, il comune di Colonnelli, il comune di Albadriati che è interessati come tutti gli altri a che si riapra più presto insomma questo tratto. Abbiamo coinvolto anche la prefettura chiedendo un urgente tavolo tecnico finché ci aiuti a trovare veramente una soluzione definitiva.